Curiosità, è ufficiale. Colpo durissimo per Valentino Rossi. Salve, appassionati di velocità. Benvenuti su The Sport News, il vostro portale per le ultime notizie sportive. Oggi esploreremo uno dei momenti più significativi nel mondo della MotoGP, una notizia che ha scosso il cuore di molti fan di Valentino Rossi. Ma prima di entrare nel dettaglio, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie sportive più calde. La notizia del giorno è un duro colpo per l'icona italiana, Valentino Rossi. Questo pilota ha scritto la storia della MotoGP, ma sembra che la PIL stia scemando, e l'ultima conferma di questo fatto non è certo confortante per il dottore. Come ben sappiamo, il mondo dello sport è sempre in evoluzione, e lo stesso vale per G e gli idoli. In questo caso è Valentino Rossi ad affrontare una situazione che sta già facendo discutere appassionati di moto in tutto il mondo, sia online che offline. Il tempo passa per tutti, e nella MotoGP il cambio generazionale è stato più evidente che mai. Oggi assistiamo a una lotta equilibrata tra giovani talenti come George Martin e Francesco Bagnaia, con il pilota italiano che ha la possibilità di bissare il suo trionfo mondiale se continuerà a mantenere prestazioni di alto livello nelle prossime gare. Ma andiamo al punto che sta scatenando le discussioni. Rossi non è il migliore, una dichiarazione che ha colpito nel segno. Valentino Rossi è stato senza dubbio un gigante della MotoGP, ma non è mai stato l'unico dominatore in questo sport. Spesso sono stati i piloti a fare la differenza più delle loro moto, e questo è un concetto che alcuni stanno enfatizzando. Tra coloro che conoscono meglio l'ambiente delle corse, c'è chi ha preferito dare una stoccata a Rossi. Il pilota spagnolo Alex Espargarò ha dichiarato pubblicamente di preferire Marc Marquez a Rossi, considerandolo il migliore di tutti in termini di talento. Espargarò ha spiegato che questa è la sua opinione basata sulla sua esperienza diretta in pista. Per me Marquez è il miglior pilota nella storia della MotoGP in termini di talento, ha dichiarato in un'intervista alla Sexta, e ho condiviso la pista con entrambi. Questa affermazione tecnica è importante, e F ha capire che non tutti vedono Rossi come il re indiscusso delle corse su due ruote. L'esperto pilota Espargarò ha anche applaudito la recente decisione di Marquez di passare al team Gresini a partire dal 2024. Una sfida per il campione spagnolo che lo vedrà affrontare nuove avventure in un team più piccolo. Espargarò ha commentato «Avranno il miglior pilota di sempre che si troverà in uno dei team più piccoli del campionato di MotoGP, ma sono felice per Marquez, sarà divertente vederlo gareggiare ancora». Questa scelta ha ricevuto ampi elogi dall'ambiente delle corse, e il campionato del 2024 si preannuncia tutto fuorché noioso. Ma cosa ne pensate voi? Chi è, secondo voi, il miglior pilota nella storia della MotoGP? Lasciateci il vostro pensiero nei commenti qui sotto, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dello sport. Restate con noi su The Sport News, dove le emozioni non finiscono mai.